Come l'ha vissuta? Ecco dai, ormai siamo arrivati a questo punto, è il momento di trattare questo argomento. Come ha vissuto il mondo del teatro, il covid? Una merda. Grazie. Stavo dicendo, trovo una parola carina. La media è chiara. Qua per te. È un podcast. Con la birra. Bentornati a un nuovo episodio di Una Media Chiara. Oggi qui con noi c'è Giulia, una maestra di teatro, attivista, autrice, fai tantissime cose. Maestra però è molto da scuola. Non ti piace maestra di teatro? Insegnante. Insegnante è più bello. È più autorevole. Maestro in teatro fa figo. Cos'è meglio? Maestro o insegnante? Da oggi sarò sia maestra sia insegnante. Benvenuta. Come sta? Benvenuta. Bene, bene. Benvenuta a Una Media Chiara. Brindisi. Brindisi. Si può brindare come brinderebbero a Dublino? Hai un brindisi? Davvero? E non te l'ho chiesto neanche. Sì. Ce l'avamo arresi. Vai. Sloncia. 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 Ma Sloncia è bello, raga. Lì lì ho detto, se adesso vi dice Skoll, però me ne vado. C'era, eh? Quasi. Avevo un po' rotto le balle. Hanno dei bei brindisi su nel nord Europa. Eh beh, drinkan tutto il giorno. Esatto, ma pure qua al sud non è che… Vero, perché c'era un altro brindisi che avresti voluto fare. Falli entrambi. Ok. Ma sì, dai, dopo facciamo un altro. Lo facciamo adesso? Sì. Dai, vai. Aizza, aizza, aizza. A cala, a cala, a cala. Eccolo. A costa, a costa, a costa. Alla salute nostra. Troppo, dai. Ok. Ancora qualcuno batte qua. Un altro brindisi? Per favore, vorrei fare un altro sorso. Va bene, puoi bere, puoi bere, bevuta libera. Come stai? Bene, bene. Sono molto contenta di essere qua. E' soprafico il vostro posto. Mi piace? Ti sembrava più grande a video, vero? No. No. È gigante. E poi si sa che le dimensioni non contano. Vero, sono cose fatte bene. Esatto, 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 esatto. Possiamo parlare di tantissime cose stasera. Io partirei dal teatro. Vai. Com'è essere maestra di teatro? E vabbè, per prima cosa bellissimo direi. Nel senso che secondo me teatro dovrebbe proprio essere insegnato obbligatorio nelle scuole. proprio dalle elementari, un'ora, invece magari di religione, un'ora di teatro obbligatoria. Perché ti insegna l'empatia. Cioè il fatto di metterti nei panni di un'altra persona senza poterla giudicare. Cioè io divento quella persona e quindi la divento in toto, non posso neanche giudicarla. Questo secondo me è il miglior modo di crescere degli esseri umani. Cioè il fatto che imparino a capire diversi punti di vista da loro. Potenzialmente questa è la società perfetta. Cioè diventa veramente la realizzazione della società anarchica perché non c'è più bisogno di leggi perché tutti gli esseri umani sanno mettersi nei panni degli altri. E quindi non è che non rubo perché c'è una legge che mi dice di non farlo ma perché so che dall'altra parte c'è un altro essere umano a cui sto togliendo un pezzo. Quindi vabbè, secondo me è bellissimo. Vedi delle trasformazioni nel corso di un anno di teatro pazzesche dal bimbo che inizia il corso che piuttosto cazzo avrebbe passato un'ora a tirarsi una pentola in testa e che poi invece alla fine dell'anno è super preso bene, non vede l'ora perché ha scoperto delle cose di sé. Anche se poi magari non farà mai l'attore della vita ma sti cazzi quello importa meno. Però ha scoperto che wow all'interno di me ci sono delle emozioni, le posso tirar fuori, non succederà nulla di male. Bella questa cosa come il teatro come esercizio di empatia, la mettiamo tipo sintetizzata così, forte questa roba. Da quanto è che ormai fai teatro per te Giulia? Ho iniziato a farlo io che avevo dieci anni. E mi ricordo che già ai tempi lo facevi teatro. Sì, perché vabbè sono sempre stata scarsissima in tutti gli sport. Perciò ha detto andiamo a fare recitazioni. Mi ha detto vabbè mi aprono un corso di teatro e in realtà a me è sempre piaciuto recitare quando sono entrata nella prima scuola di teatro. Ho detto bella, finalmente il mio posto nel mondo l'ho trovato. Subito, è stato amore a prima vista. Subito, subito. Appena sono entrata ho detto wow, ok ci siamo. È questo che vuol dire non sentirsi costantemente a disagio, fuori posto. Ma tu quindi adesso segui dei bambini? Sì, diverse fasce d'età nel senso bimbi, ragazzi, adulti. Allora maestra ci sta. Ma non tutti insieme? No, ogni corso ha la sua fascia d'età oppure ci sono i corsi che magari hanno persone problematiche. Quindi che ne so, bambini disabili o magari ragazzi in carcere che prima ne parlavamo. Insomma, diverse fasce d'età ma anche con gli adulti. E nel frattempo continui ad essere attrice? Sì, 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 covid a parte. Sì, che poi è un argomento che tratteremo sicuramente. Però sì, perché vabbè poi nasce tutto da lì, nel senso che... Non puoi essere maestra se prima non... No, no, non puoi. No, ma secondo me non ti viene neanche da farlo perché vuoi passare, entri in classe pensando ok, gli sto passando la cosa più bella del mondo per me. Ma secondo me entrare in una classe e qualsiasi cosa insegni senza pensare ok, adesso passo la mia passione più grande del mondo. Non ha senso, stai fuori dalla porta. Ma secondo te si nasce attori o si può diventare? Assolutamente si diventa. Si diventa. Ma chiunque può fare l'attore perché è proprio una cosa super artigianale. Cioè tu impari andando a scuola come fare, come recitare. Cioè ma è come costruire una sedia, costruire una cassa panca. È proprio super artigianale. Cioè tu lavori con il tuo corpo e lavorando impari questa cosa del talento che... Ma è una cosa un po' naturale forse fare un po' teatro. Ma c'è chi magari ha più l'indole, magari c'è chi ha più l'indole di ok, mi piace, sarà il centro dell'attenzione. No, assolutamente. Però poi in realtà è pieno di gente che entra nelle scuole di teatro perché i genitori arrivano e ti dicono mia figlia è timido, ti prego, devo fargli fare un corso di teatro. E noi diciamo ok, facciamogli fare il corso, ma suo figlio sarà comunque timido e non ci sarà nulla di male in questo. Ma io speravo che fosse un po'... Beh dai, due barriere un po' le abbassano. Sì, certo. Però se è una persona è timida, è timida. Di base sì, cioè magari esce un po' fuori dalla zona sociopatia quindi riesca a salutare le persone per strada. Che comunque è un grandissimo risultato. Enorme. Ritieni ti soddisfatta, eh? Se arriva un bambino che non salutava e poi saluta, cioè gran merito. No, no, assolutamente. Sono soddisfazioni che... Penso sempre alla sera prima di addormentarmi, dico meno male. Però vabbè, in realtà vanno benissimo le persone timide. Se arrivasse una mamma e mi dice se mio figlio è un serial killer, facciamogli far teatro, direi va bene, direi che c'è da lavorare. Ma finché è timido, dai, ci sta. Ma invece tu come attrice, io ho letto qualcosina mentre preparavamo questa puntata. Io ho letto in un articolo, in quel momento, quindi non ti so dire neanche quanto, sarà stato il 2019 quando c'è stato quell'articolo. Savi, portando uno spettacolo in particolare che era per una vittima di mafia. Sì, è uno spettacolo che si intitola Voi quella notte voi c'eravate. L'abbiamo scritto io e la mia collega. Quindi scrivi anche, è autrice. Sì. È un'autrice. Ed è proprio la storia di una vittima innocente di Camorra, Gilsomina Verde. Storia vera. Storia vera. Una ragazza che è stata ammazzata nel 2002, quindi tipo l'altro ieri, a Napoli. Vittima innocente perché non era un magistrato, una poliziotta, non era coinvolta nelle storie di mafia. Semplicemente era stata fidanzata per un periodo con un ragazzo che poi avrebbe fatto parte di una delle cosche, perché in quel periodo da Napoli c'è una faida tra cosche. E per questo viene ammazzata, sostanzialmente. Cioè perché era la compagna di un mafioso. Sì, sì. Ma in quel periodo ne morivano tipo, no, ne morivano, ne uccidevano tipo dieci al giorno. Ah, gli stavo facendo due al giorno. No, no, i numeri sono ben più alti. E lei ha fatto autrice e attrice? Sì, sì, sì. Entrambe abbiamo sia scritto sia recitato. Protagonista. Sì, ma in realtà siamo entrambe sempre in scena, perché abbiamo una scenografia che ci aiuta, nel senso che, richiamando anche un po' l'atmosfera di Napoli, abbiamo proprio stesi sul palco dei fili su cui appendiamo gli abiti. E a seconda dell'abito che mettiamo, siamo uno dei diversi personaggi della scena. Quindi ruotiamo, siamo sempre io e lei, tutto il tempo in scena e ruotiamo. Sì, sì, crea un bel gioco anche con il pubblico. Ma ci avete messo un panaro? No. Però, se vuoi, puoi candidarti. Ti facciamo un po' il panaro. I tuoi consigli su come parlavo ce li avevo però, ma ormai è tardi. Cos'è il panaro, raga? Il panaro è un cestino del pane che in pratica fai calare dal balcone. Tipo, arriva la spesa, ci sono le scale. Sì, 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 ho capito. Mandi giù il panaro col filo. A me l'ultima volta mi hanno detto, eh, va che panaro? E mi hanno detto che era un bel culo. Vabbè, io pensavo fosse quello. Ce l'avevo dubbio. C'è una frase bellissima che dice che il trucco per recitare è non recitare. Cioè essere più vero e autentico possibile. Sì. Ti ritrovi? Sì, nel senso che soprattutto ormai adesso teatro contemporaneo non è più il teatro barocco, quello quindi molto impostato che tutti pensano essere o non essere che ci scartano a mettere le palle tutti quanti, ma è un teatro molto autentico e che secondo me ci sta perché tu in teoria entri completamente nel personaggio quindi in realtà sei quella persona quindi semplicemente ti comporti come quella persona si comporterebbe nella data situazione che lo spettacolo poi delinea. Quindi sì, assolutamente sì. Cioè meno reciti, più sei autentico, più il pubblico ti crede e quindi segue la tua storia e quindi si immerge. Più il naturale possibile. Certo. Ma com'è il tuo rapporto col pubblico? In generale per un attore? Bellissimo. Ah, è bello, ok. Sì, bellissimo. Cioè secondo me è poi il bello di fare teatro rispetto a cinema o televisione che si crea proprio quell'amore lì. Cioè che tu sei lì e ti stai dando tutto completamente. È proprio veramente come fare l'amore. Sei lì e ti dai tutto, ti doni completamente, sei completamente nelle mani del pubblico e loro sono lì a dirti sì ancora dammi di più, dammi di più, dammi di più. Quindi per me è una cosa super passionale, bella. Si costruisce proprio un bel film. Poi c'è pubblico e pubblico. Ti è mai capitato di avere... Sì. No, fischi no. Di solito il pubblico di teatro è abbastanza educato, quindi... Però fai l'impressione quando ci sono magari due repliche di fila di uno spettacolo e magari la prima replica che è un po' più presto, di solito c'è un pubblico un pochino più anziano. La replica più tardi è più giovane e cambia completamente l'energia. Nel senso che magari il pubblico più anziano è proprio più attento, cioè senti che non vola una mosca in sala, però a rubargli una risata fischia di fare salti mortali. Invece nella replica successiva col fatto che magari poi spesso vengono come gruppi di amici, eccetera, è molto più cacciarone il clima. Ti cagano meno però ridono di più. Esatto, esatto, sono più discosti. Ma il pubblico è giovane? Sì. Ci sono i giovani a teatro? Ci sono i giovani, tanto. Per la mia esperienza, poi non so dirti alle sale del piccolo perché lì entra anche una questione economica di mezzo. Purtroppo. Il piccolo teatro di Milano che è uno dei teatri più importanti d'Italia, non so, lì c'è anche di mezzo purtroppo una questione economica che i biglietti costano di più rispetto a venire a vedere me. quindi... Tu dove sei generalmente? Io ovunque, ho fatto spettacoli in scantinati, in ex stalle. Il più figo dove l'hai fatto? Il più figo. Nel teatro più figo, nel posto che hai detto ok, questo è il posto più figo dove ho ricevuto. Forse il teatro Leonardo in Piazza Leonardo a Milano. Dove c'è il poli tecnico. Dove c'è il poli, sì. Dove ci andiamo a scassare. Esatto, esatto. Ma anche noi ci siamo parecchio scassati lì fuori, quindi vai tra. Bene, bene, bene. Volevo chiederti com'è il tuo rapporto in generale degli attori con l'improvvisazione? Capita tanto? Capita spesso? All'interno di un spettacolo? Sì, sì. Sì, tantissimo. Vero? Sì. No, non me l'aspettavo. Cioè nel senso, non è che cambi lo spettacolo, la partitura rimane quella, e sai che li sai, però all'interno di quello mille volte capita che ti scordi la battuta. O un personaggio dietro, un attore dietro ha avuto un problema quindi il personaggio non entra in scena quindi devi un po' giocare. O mille e 600 cose diverse che è il bello del teatro. Che è il qui e ora e quindi l'adrenalina lì. Non puoi mollare un secondo, esatto, bravissimo. Hai le chiappe strette tutto il tempo e hai tipo i sensi, cioè sembra di essere drogati. Mi stai mettendo, oddio ecco, stavo per dire, mi stai mettendo voglia di recitare. Quando hai detto drogati poi basta. Eh no, ma perché hai tutti i sensi super amplificati, cioè è come se riuscissi a sentire, vedere, capire tutto. Se sei bello in connessione, poi c'è la serata che noi, e vabbè, fa niente. Però di base sei attentissimo a tutte le percezioni. infatti se hai qualche aneddoto poi che ti viene in mente raccontalo perché sono proprio curioso di sapere il momento esatto in cui ti re... Sì? Bravo, grande. Adesso che ci penso, cazzo? Tra l'altro l'avvento non di via Meda. Grande! Oratorio. Sapevo che sarebbe finito. Eh sì, è vero, è vero. Sì, c'era anche io. Tra l'altro era il primo personaggio che entrava in scena. Ma è vero. Sì, con una capriola. È vero, mi ricordo. Vabbè, ma penso che tutti elementari o... Io gli elementari facevo le onde. Un spettacolo fatto. Posso dirvi il mio primo ruolo? Ti prego. Il mio primo ruolo è stata la Madonna. Ah sì? Allora, però, cioè... Alla resta dell'asilo. Comunque di rilievo, è vero. Sì, ma quella natalizia quindi? Sì, anche se... Ovviamente, ovviamente. Anche se poi ha creato un piccolo problema nel senso che poi per anni mi hanno continuato a chiedere cosa vuoi fare la grande e io ho sempre risposto la Madonna. Che mi dicevano ma forse vuoi dire la suora io? No? La Madonna? Dio, mettimi in cinta! Le suore erano felice fino a un certo punto. Avevano già capito il potenziale. A proposito di relazioni, ho appena scoperto che tu ti sei fidanzata tramite Tinder. L'ho letto anch'io. Che bello quel posto. Beh, lei me l'ha proprio dichiarato. Non lo sapevo. Io ho letto il posto invece. Io non lo sapevo. No, era una dedica bellissima. Non so se la dirò giusta, però era tipo quello scrollamento a destra su Tinder è stata una delle cose migliori. è vero raga! Cioè era esistibile. Vedi, per me vorrei essere autore perché da una piccolezza del genere riesci a... No, ma infatti i suoi post che prima parlavano del fatto che c'eravamo tutti screenshotati in preparazione della puntata. Mi è piaciuto tantissimo. Scrivi benissimo. Scrivi davvero bene. Cermi. Però puoi dire che scuola fai. Beh sì, appunto, sta studiando per questo. Nel senso che sta facendo la Holden a Torino che è la prima laurea in scrittura d'Europa. Quindi regoglioni. Regoglioni. E quindi poi lì impari a scrivere sia per serie tv che per film per tutto. Sì, diciamo che hai vari corsi attraverso cui tu sperimenti la scrittura in tutti i suoi ambiti. Quindi da la narrativa quindi come scrivere un racconto un romanzo oppure le serie tv che è la cosa più fina. Quella che ti stai... Allora, in realtà ti racconto questa aneddota in libreria con appunto il mio amoroso conosciuto su Tinder. eravamo in un giorno in libreria e stavamo così cazzeggiando. A un certo punto andiamo dove c'è la P di narrativa io sposto due libri e gli faccio vedi c'è lo spazio in mezzo per Pacilli. Quindi diciamo il sogno è uscire con il romanzo. Però in realtà sto scoprendo un sacco di cose fichissime. Appunto, vabbè, scrivere per una serie tv è forse la cosa più interessante perché è la scrittura più difficile perché sono continui colpi di scena perché l'attenzione c'è un contatto che dura poco l'episodio eccetera. Devi tenere l'aspettazione. E poi tu pensa mentre in produzione una serie a parti che fai un episodio pilota se va bene allora farai la stagione se la stagione va bene allora farai la seconda se vada a Dio è un casino perché ora la dobbiamo tirare per 4 o 5 esatto non sappiamo che cazzuare tante si perdono poi quasi tutte purtroppo infatti le ultime serie c'è chi invece ogni tanto fa lo scatto che la quarta si ribecca e cose così sì 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 no ci sta no ma la scrittura è effettivamente molto utile tra parentesi noi stavamo cercando un autore quindi se ti interessa nel tempo libero volentieri lo propongo a te ma nel caso se qualcun altro volesse che vuole scrivere qualcosa noi ci mettiamo a disposizione qual è la tua serie tipo preferita allora stavo già pensando a una cosa super raffinata da dirti ma dei cuore Game of Thrones proprio a mani bassissime per me Game of Thrones ma perché è potentissima la tesi che sta dietro Game of Thrones cioè per Martin la tesi è questo tipo di potere cioè un potere tirannico non c'è lo spin off no? sì dovrebbe 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 sì non funziona cioè che sia in mano a un personaggio cattivo o buono o maschio o femmina non funziona cioè proprio il problema sta nel tipo di potere e secondo me i personaggi sono bellissimi lì purtroppo è un esempio di ultima stagione che ha fatto cacare per fretta è vero ma secondo me è troppo veloce beh oddio cioè erano quante stagioni sono? sei? no proprio l'ultima cioè tenersi smatta così da no 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 spoiler se non avete ancora visto Game of Thrones non è più spoiler cioè come dire oh Gesù poi risuscita cioè lo sanno tutti poi si ne può parlare poi comunque la serie più bella del mondo per me rimane a me a me a me ah no sì 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 sono completamente d'accordo no 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 completamente d'accordo penso di saperla a memoria tra l'altro quando arriva Natale inizio a cantare le canzoni sconce di Barney I wanted to see her naked I wanted to see her naked I wanted to see her naked ma come davvero cantare io voglio vederla nuda perché io poi lo so l'italiano e inglese voglio vederla nuda voglio vederla nuda e ha quattro zampe arte pura e te da una sorellina che è sempre più carina e quando la vedo con le sue tette giocherò insieme ora canta bene in inglese no quella non mi ricordo mi chiedi troppo e a cosa stai lavorando adesso invece? allora adesso sto lavorando appunto al romanzo ah hai già iniziato? sì sì mi ero data diciamo a capodanno dell'anno scorso come obiettivo del 2021 mi sono detta devi trovare l'idea e iniziare e è arrivata dopo tanto cervellamento quindi ho iniziato principalmente a lavorare su quello e poi c'è uno spettacolo in cantiere che a cui sto lavorando sempre con la tua socia? no in realtà no con il mio socio con cui ho creato la mia scuola di teatro quindi ah quindi sei tu che hai creato la scuola non ti hanno chiamato per gestirla? in alcune scuole in cui lavoro sì mi chiamano da fuori quindi lavori anche in più scuole? sì 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 esatto mentre c'è questa scuola che in realtà è un'associazione culturale che abbiamo creato io, questo socio e altri due matti sciagorati e tra l'altro nel 2019 quindi siamo partiti felicissimo poi covid però in realtà anche online ce la si è incavati di brutto sei andato in diretta? sì cioè poi in realtà non abbiamo fatto proprio corsi di teatro perché abbiamo detto vabbè così non ha senso però abbiamo pensato a percorsi molto più specifici tipo dizione tipo lettura espressiva tipo scrittura teatrale e che funzionavano anche online avevano senso quindi c'è stato come l'ha vissuta? ecco dai ormai siamo arrivati a questo punto al momento di trattare questo argomento come ha vissuto il mondo del teatro il covid? una merda grazie stavo dicendo trovo una parola carina però dai siamo giunti alla fine sì no adesso adesso tornano però adesso torna al cento per cento però Angelo Duro ha fatto la mossa tu l'hai visto cosa ha fatto Angelo Duro? cosa ha fatto? l'hai visto per non so come si può dire? è andato in giro è andato in una chiesa è andato al supermercato esibire la chiesa si è presa la denuncia si è presa la denuncia dal prete è andato al supermercato con i mischilla è stato troppo un genio è andato in dei luoghi dove comunque puoi entrare dove in realtà non c'è l'impio non serve il basso non serve il limite eccetera perché la gente qua può venire tranquillamente e non a teatro no ma infatti è quello nel senso che cioè lei è stato proprio un genio poi ovviamente è fatta all'angelo duro esatto stupido quindi no no ma ci sta ovviamente all'inizio le prime chiusure io ero la prima a dire raga è giusto che siamo a casa poi il mio papà è medico quindi no certo dicevo siamo tutti a casa su quello penso che tutti fossero d'accordo però vedere un mese fa i comizi dei politici in cui la gente era super accalcata una attaccata all'altra ci mancava poco che si leccassero le guance a vicenda e dico e non possiamo andare a teatro ma non ha senso questa cosa sono scherzando tu stai facendo campagna elettorale e c'è la gente che non lavora eh capito cioè tu fai la campagna elettorale con la gente assembrata così ti fai le foto le pubbliche su Instagram che poi manco dice è successo e basta no cioè metti video e foto su Instagram per vantarti della folla che c'è nella piazza sì a me mi ha stupito che poi quando è uscita la polemica il casino loro hanno fatto finta di niente e hanno continuato sì ma a me viene in mente Conti vabbè ma perché ha continuato senza dire nulla no sì e poi se non ci sono con la mezza frase tipo ma no noi è qualche giorno che ci stiamo pensando alla questione dei concerti buongiorno amico c'è un intero settore fermo da un anno praticamente a me ha fatto morire la non so il tiktok che era girato nei giorni scorsi che aveva non so se non sbaglio Lazzar l'aveva ripostato su Instagram del tipo in piazza Duomo che faceva le canzoni sudamericane fratelli d'Italia di fratelli d'Italia che cantava le canzoni sudamericane tipo a sotopego e l'altro ti dice ma guarda te sto coglione che fa le canzoni a sotopego questo qua politico io non canto che sono cantante ma non è tanto il discorso sai anche solo del cantante perché il cantante comunque ci campa raga certo è il fonico è il tempo comunque sia fa uscire l'album sì comunque sia perde la fetta più grande del suo lavoro per l'amor del cielo ma c'è dietro raga c'è gente che lavora tutti i giorni andrà a montare e smontare palchi c'è il fonico c'è il videomaker c'è tutto c'è tutto un mondo dietro c'è tutto un business c'è chi fa la comunicazione c'è chi fa il promoter c'è tutto ma perché tutti fermi è la stessa cosa delle discoteche adesso io lo dico da non frequentatrice delle discoteche perché per gusto personale non mi piace particolarmente ma questa demonizzazione della gente che ha un locale ma ragazzi ma questo è il suo lavoro ed è dignitoso quanto qualsiasi altro lavoro sta in braghe di tela da due anni è chiaro che non si può pensare di riaprire al 35% ma è una presa per il culo ma è il suo lavoro e non c'è niente di sbagliato e però viene considerato meno onorevole meno e è la stessa cosa che è successa al teatro col fatto che dà meno soldi perché così possiamo pensarci sicuramente hanno pensato molto prima a riaprire gli stadi gli introiti sono maggiori certo gli sponsor sono di più certo e beh il discorso della serie A si è visto per quanto l'hanno fermata e come sono impazziti quando hanno fermato la serie A che comunque si asce da dire che l'hanno fermata per la prima volta da quando è stata creata la serie A farvi capire neanche durante la guerra si è fermata mi pare davvero? non sapevo no per cosa è che avevano fermato la guerra cos'era? le Olimpiadi le Olimpiadi mi sembra di sì le Olimpiadi mi guardate raga no generalmente la seconda guerra mondiale avevano fermato generalmente questo farete un cut e passerà come dietro la telecamera perché sennò sicuro sarebbe intervenuto lui lo sa ha fatto due ha fatto due ho fatto due visto e e invece vabbè dai arriviamo adesso abbiamo dato che ci siamo buttati un po' nel sociale arriviamo un'altra parte che io apprezzo tantissimo di te che è il tuo attivismo e il tuo anche te lo giuro quei post erano troppo belli ti ammetto anche che mi sono un po' emozionato in metro non mi ricordo neanche a quale post ma mi sono un po' emozionato ti ringrazio e tratti temi differenti ecco non sei non lo so il classico profilo Instagram dove ci si fissa su una battaglia e tutti i post sono su quello mi piace la tua idea di pensiero davvero mi è piaciuto tanto vi consiglio di andarvi a leggere i suoi post a parte scritti benissimo ma poi anche le cose che dici sono bellissime quindi vorrei trattare un po' anche quel tuo aspetto lì ok sì certo beh allora io sono sempre stata una rompicazzo cioè purtroppo lì sì c'è l'indole che è il classico di qualunque attivista perché comunque si dai diciamocelo se fai l'attivista sei una gran rompicoglioni però meno male che ci sono perché se no assolutamente sì io ricordo benissimo la lezione alle medie con io che dico alla mia prof delle medie ma non è vero che Colombo ha scoperto l'America l'ha invasa c'era già la gente cioè sei proprio una che nasce rompicoglioni proprio così quindi crescendo ho trovato delle persone rompicoglioni quanto me e ha detto cacchio c'è la possibilità di fare di rompere i coglioni possiamo romper i coglioni insieme possiamo romper i coglioni insieme e e lì è proprio una cosa cioè per me ci sono delle battaglie che emoziono non posso fare a meno di pensare che non potrei combatterle cioè nel piccolissimo che minuscola goccia nel mare che è il mio contributo però sono troppo importanti cioè per me il fatto che siamo tutti quanti esseri umani su questo pianeta che ci è stato dato il regalo da non si sa bene chi e che in quanto tali dobbiamo avere il massimo rispetto l'uno per l'altro a me sembra la base a me sembra la base io non capisco perché delle persone dovrebbero mettere a rompere dovrebbero mettersi a rompere il cazzo per con chi limono o no perché poi è questo soprattutto e tra l'altro rompono il cazzo soprattutto le persone che vengono da una religione a cui viene detto amo al prossimo tu come te stesso ora per me è così scontato che faccio anche fatica a confrontarmi lo giuro davvero per me non ha senso cioè perché non dovrebbero spusarsi sembra di parlare contro un muro però però la cosa di cui sono assolutamente consapevole è che cavoli loro sono dinosauri cioè si stanno estinguendo ormai le nuove generazioni crescono e questo è un gran merito è la cultura sono le serie tv crescono vedendo rappresentate l'internet è stato sotto questo punto di vista molto importante assolutamente sì assolutamente sì quindi per me tutta la causa lgbtq più è fondamentale per il pubblico inglese sorry quindi questo sicuramente e infatti faccio parte dei sentirelli di Milano perché è il movimento che più ho trovato affine a me in cui sono felicissima di far parte ci sono un sacco di persone dentro che stimo da matti e con loro si può fare tante cose ma proprio anche concrete cioè quest'anno per il DDL abbiamo tirato su una manifestazione che abbiamo tirato in piazza un botto di gente quindi è qualche sassolino dalla scarpa piano piano lo si toglie vero assolutamente sì assolutamente anche in Italia sì 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 no ma io di questo cioè sono molto ottimista ma non così allaidi cioè con vedendo la realtà dei fatti anche il tema femminismo cioè cos'è per te il femminismo? semplice semplice maschio e femmina con uguali diritti punto chiunque dica sì io credo nelle donne però femminismo è un termine troppo estremo e io sempre dico ok ci sta però secondo te se un maschio e una femmina fanno lo stesso lavoro meritano di essere pagati uguali sì certo allora sei femminista guarda colgo un esempio dal tuo profilo che mi è piaciuto tantissimo credo sia il tuo ultimo posto sì 22 ore fa elezioni amministrative 2021 Roma ballottaggio tra due uomini Milano vince un uomo Torino ballottaggio tra due uomini Bologna vince un uomo Napoli vince un uomo Trieste ballottaggio tra due uomini beh insomma non c'è neanche una donna in tutto questo non c'è neanche una donna né al ballottaggio né al sindaco e questo come non è evidente perché poi arrivano tutti i discorsi del eh ma non è tanto in base al sesso ma in base al merito ma questo tipo di percentuali ti dice che il nostro sistema discrimina in base al sesso non in base al merito che se c'è un uomo una donna a un uomo basta essere bravo una donna deve essere tre volte straordinaria e questo ditemi un redattore di un giornale femmina esatto o la percentuale dei magistrati fa paura o un direttore di un teatro andiamo a vedere i dirigenti dentro l'azienda i dirigenti dentro le aziende e non può essere che le donne sono scarse come magistrati come possibili sindache come non può essere guarda che ogni capo ha sempre però attorno più donne che uomini sì ma non è mai il capo non lo so capisci il discorso? come persone che però lo aiutano nel muoversi cioè tipo nella mia azienda cioè un capo il direttore è un uomo però ci sono tantissime figure femminili perché questo va tantissime a confermare la tesi del un uomo ha sempre delle grandi donne alle sue spalle questa bellissima spavola che ci è stata raccontata fino alla morte è che ma perché non può essere donna e uomo che vanno di pari passo e il 50% delle volte l'uomo sarà capo l'altro 50% sarà capo donna sì sì oggi leggevo un numero spaventoso che per parità di lavoro quindi se io e te facciamo lo stesso lavoro identico tu guadagni 3000 euro in meno in meno ed è incredibile cioè come se tu iniziassi a lavorare inizio marzo è spaventoso però è così me ne sono mai reso conto a te un colloquio di lavoro hanno mai chiesto hai intenzione di avere figli? di rimanere incinta c'è una domanda che mi sono insegnata te l'hanno mai chiesto? sì ma a qualunque colloquio non nel mondo del teatro ma ho fatto qualsiasi tipo di lavoro per mantenere no raga ma che cazzo gli anni te lo fanno cioè comunque ma quando ti danno è una domanda fissa ma fa niente hai intenzione di rimanere incinta? a 18 anni te lo chiedono ma sempre comunque hai intenzione di rimanere incinta sì è successo a me poco fa a te io avevo un ex collega che si dice mobbing le hanno fatto mobbing quindi e l'ha vissuta malissimo nel contratto di lavoro che firmi spesso e volentieri c'è una claudola che proprio ti dice che tu devi dire di essere incinta entro massimo un mese di gravidanza massimo due perché cioè magari io sono pure la mia vita è pure stata sconvolta da questa cosa magari ci sto mettendo tutto il mio tempo per capire se voglio tenerlo se non voglio tenerlo altro capitolo che potremmo aprire e andare avanti all'infinito in Italia e io devo dirlo a te per obbligo ma un mio collega maschio no un mio collega maschio se la sua fidanzata compagna amante resta incinta non deve dire niente questo è già discrimine pensi che una donna possa pensare di essere mamma nel 2021 e nello stesso tempo fare carriera o pensi che abbia ancora tante difficoltà ma ci sono tanti esempi di donne che riescono serenamente poi appunto io non sono mai stata mamma né incinta quindi non ti so dire sulla mia pelle però mi sembra che ci siano tante donne che riescono e secondo me questo grazie anche al fatto che tanti uomini vogliono fare il papà e quindi essendo il ruolo distribuito chi dice mamma merita di cascare dal questo è quello che mi è piaciuto dei tuoi post o delle cose che dici nel senso che non ho trovato quel voler combattere per dei diritti fottendomene degli altri cioè ho trovato veramente una persona che secondo me in quello che scrivi si vede che ragioni e ragioni in modo equo e solidale verso tutti cioè non è una cosa che un po' mi dà fastidio perché purtroppo ci sono delle battaglie per i diritti che io sostengo e mi dà fastidio che a rappresentare queste battaglie ogni tanto ci siano delle persone che deviano il discorso rovinandolo totalmente e facendo sì che la parte di chi combatte per determinati diritti venga etichettata con quella persona e questo secondo me cioè non porta proprio più a nulla cioè fai solo danni e crei solo odio nei confronti di quella categoria quindi il risultato si allontana assolutamente c'è tutta questa fascia di femminismo che le famose nazi femministe del odio agli uomini io facevo parte di un movimento e da qui mi sono ritirata perché ho detto ma noi non possiamo fare battaglie femministe tirando fuori gli uomini non ha senso fare separatismo non siamo più negli anni 70 ma anche perché è un mondo contro il patriarcato è un mondo che serve anche agli uomini assolutamente sì sono pienamente d'accordo e su questo vedi tu hai scritto siamo al 51% della popolazione e veniamo ancora considerata una minoranza basta con gli auguri e le minoranze scendete in piazza e notate insieme a noi faccio un appello a tutti gli uomini che si sentono ma poi fanno pure schifo le mimose posso dirlo a parte che raga veramente che si vergognano a definirsi femministi voglio fare questo appello nel senso che sono d'accordissimo con quello che dici tu e voglio fare questo appello nel senso raga non vi sentite attaccati cioè rendiamoci conto del fatto che non è colpa nostra parlo di noi generazione raga che abbiamo vent'anni e che viene dopo di noi sappiamo benissimo quello che c'è stato prima e se è la situazione attuale sicuramente la colpa non è nostra noi non siamo i razzisti noi non siamo gli omofobi noi non siamo i maschilisti noi siamo quelli che stanno crescendo adesso che abbiamo magari altri criteri di pensiero perché siamo cresciuti con internet e siamo un po' magari più integrati ecco però la colpa non è nostra adesso lo sarà se le cose non cambiano tra vent'anni sì cioè questo è secondo me il momento realmente di dirlo cioè nel senso questo è non è colpa nostra nessuno si deve sentire qua in colpa non è la colpa di nessuno di noi ok è colpa di tutte le generazioni che ci sono state prima e dei pensieri che c'erano prima e delle correnti di pensiero che c'erano quella che si verrà a creare la rappresentiamo noi sì voglio dire qualcosa volevo dire che secondo me un ottimo modo per fare quello che dicevi cioè di dire occupiamoci del futuro del presente e del futuro è semplicemente riconoscere quali ognuno di noi quali sono i privilegi che ha cioè io per esempio sono bianca non ho assolutamente mai provato la cosa di chiamare per una casa in affitto e sentirmi dall'altra parte dire no e capisco che è perché il mio nome non è italiano quindi questa cosa non l'ho mai provata questa cosa è un privilegio non mi identifico nel mio genere quindi non sono una persona transgender quindi non ho dovuto affrontare un percorso straziante infinito per sentirmi veramente me stessa ho una serie di privilegi sapere già essere in grado di riconoscere che sono dei privilegi è già tantissimo cioè ci sono dei ragazzi con cui mi è capitato di parlare e dire tu non puoi capire la paura di salire su un autobus vedere un tizio che ti guarda e vedere quel tizio scendere alla tua stessa fermata tu questa paura non ce l'hai tutte 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 le ragazze ce l'hanno vedo vedo che conferma ma è così anche solo dire cazzo questa cosa è una cosa che a me non tocca ma altri esseri umani sì ok mi devo attivare in merito secondo me è anche solo quello sì leggevo che pochi anni fa ne ho inserito hanno inventato il meritometro che quindi va ad analizzare l'uguaglianza di opportunità in tutta Europa ovviamente l'Italia è terz'ultimo in questa classifica quindi facciamo la Finlandia mi sembra facciamo tanto i fighi tanto i fenomeni in Italia siamo i migliori eccetera però dobbiamo ancora imparare tantissimo voi siete molto ottimisti posso dire sì non è essere ottimisti è credere in qualcosa secondo me però siamo in Italia quindi le cose non cambiano no non è così no non così però comunque sei educati a volte in determinati contesti di ignoranza e perciò se tu vieni educato purtroppo da una persona ignorante non sto insultando nessuno tu automaticamente diventi ignorante no non per forza allora secondo me è vero però dai cazzo all'80% dei casi secondo me è tutto che un argomento giustissimo che è quello dell'educazione e in tema di discriminazione di genere è centrale nel senso che un bambino che si butta nel fango gli si dice come sei coraggioso una bambina gli si dice non ti sporcare quindi già da subito noi indirizziamo maschi e femmine in due posizioni molto diverse quindi sono d'accordo più i genitori saranno consapevoli meglio sarà però penso anche che con questa cosa che c'è internet ci sono le serie tv c'è comunque anche il ragazzino che cresce in un contesto magari più ignorante però in qualche modo viene a contatto a piaccia si metta la cultura le transformazioni al mondo come diceva prima Giulia tendo ad essere ottimista perché tanto quello ormai è il mondo si si è dinosauri ormai siamo in un'altra epoca e sono loro che si devono adattare guardate il referendum per l'eutanasia per la cannabis legale che numeri ci sono impressionanti e dai dillo Cri che sei ferito e vai raghi raghi quanto ha spacciato no ha fatto un appello hai visto cosa è successo tutto merito di Cristian Savoldi speriamo speriamo che poi davvero a parte gli scherzi sono molto più importanti quello sull'eutanasia è molto più importante quindi comunque scusate ormai la puntata la siamo quasi per chiudere io noi ci siamo accordati che questo non sarebbe stato il tema principale della puntata però lo sai che ci saremmo finiti vero sono pronta è il tuo momento allora ha detto di no a otto e mezzo Lily Gruber la sta ancora aspettando lei ha scelto di venire una media chiama no allora prendi tutto un applauso per questo con tutto il rispetto per Lily Gruber con tutto il rispetto per Lily Gruber però è stato troppo divertente questa chiamata mi chiama questa giornalista a parte che vabbè come fanno ad avere il mio numero questo io me lo chiedo da quattro anni ma vabbè mi chiama questa giornalista ciao sono di otto e mezzo tipo una settimana fa una settimana fa ciao sono da otto e mezzo al programma di Lily Gruber e mi dico sì guarda mi seguo tutte le sere sono una bimba esatto sono una bimba di Lily e e mi fa avremmo tanto piacere averti con noi per noi sarebbe veramente importante e mi dico guardate semplicemente non c'è niente da raccontare questa storia per me è proprio chiusa non me ne frega niente è chiusa ma oggi che la possiamo rinfacciare e ho detto proprio e lei mi fa ma quindi non andrai da nessun'altra parte faccio guarda no aspetta no da una parte vado vado dai ragazzi di una media chiara perché io l'ho già promesso e le fa ma chi sono? ma come? se ci stai guardando te l'abbiamo scavallata noi ma come non lo sai? ma non li conosci? ma ascoltali sono troppo bravi posso dire io non conosco Lily Gruber no perdonati vabbè posso avere delle pec pure io qualcuna ogni tanto comunque il tema immagino per il quale ti abbiano chiamato è anche la prima cosa che ti ha resa famosa all'opinione ti ho cercato su google volevo trovare qualcosa sul teatro sappi che semmai farei uno spettacolo di teatro sicuramente mettendo il tuo nome non lo trovano purtroppo sappilo che la tua sei ormai è fottuta cosa esce? esce un fatto che io me lo ricordo io ne parlavamo la prima volta credo quattro e la seconda tre sì no ma diciamo cosa perché se no non si capisce allora lo dico io vai raccontalo tu perché non mi sembrerebbe corretto esatto ok allora quattro anni fa cercherò di essere brevissima quattro anni fa a Milano viene fatta questa manifestazione dopo dopo i fatti di macerata il ragazzo che ha coperto l'altricolore era uscito e aveva sparato alle prime sei persone parentesi ha preso meno anni di Mimmo Lucano sì 11 Mimmo Lucano 13 grazie giustizia italiana vabbè quindi c'è questa grande manifestazione a Milano contro il razzismo e io faccio questo cartello che tuttora mi sembra veramente stupido e scemo e scrivo stranieri non lasciateci soli con i fascisti ok me ne vado alla mia manifestazione con il mio cartello con i miei occhiali tutta bella contenta fotografano il cartello cartello diventa virale e io ho tutte le pagine in base eccetera un paio di giorni dopo mi chiamo una mia amica e mi dice sei sulla pagina facebook di Matteo Salvini e tipo ma in che senso ma come possibile quindi da lì un'idea di merda sì terribile ma che la gente ha anche dei problemi in serie sì molti ma molti problemi cioè perché comunque per scrivere si fatti prima mi avete chiesto se sono ottimista in effetti raga voi siete ottimisti no io sono ottimista perché comunque l'età media è alta si può essere lei ottimista dopo questa cosa penso che dovremmo essere tutti ottimisti quindi super shitstorm minacce auguri di cancro di morti di supro cose veramente siamo nel 2018 2018 esatto mamma mia un anno dopo Matteo Salvini in quel momento era solo un politico sì esatto parlamentare europeo parlamentare sì era solo un politico solo solo un politico diciamo che aveva qualche follower in più di me un paio qualche milione esatto un anno dopo una manifestazione simile dopo i decreti sicurezza organizzata appunto dai sentinelli di Milano people prima le persone io decido di prendere gli insulti che più mi sono stati fatti l'anno precedente ovvero boniste puttana e scrivo questo cartello meglio boniste puttana che fasciste salviniana tac proprio serena però posso dire che io non avevo capito che boniste puttana l'avevi preso da sì sì erano gli insulti che mi avevano fatto di più cioè diciamo a percentuali quelli che ricorrono giustamente tu richiami quella storia lì in cui Salvini ti ha pubblicato e cosa succede? mi ripubblico ma secondo te l'ho fatto apposta o casualmente ti ha trovato o è quello del 2018 personaggio pubblico no no ma secondo me manco sì che poi lì esatto ricordava che fosse diciamo la verità chi è proprio Matteo Salvini che guarda e dice ok io la voglio pubblicare questa cosa non lo so ho sbaglio lì c'è dietro una macchina chiamata bestia tra l'altro chiamarvi bestia nel senso vabbè sì per cui è questo meccanismo preso dal modo di fare politica americano per cui dai l'idea che il leader sia allo stesso tempo in televisione in piazza e sui social ogni presente si occupa di tutto quindi e l'obiettivo è mettere all'agonia singole persone dall'obiettore politico eccetera eccetera e creare due schieramenti pronti a scannarsi perché così sarai condiviso da chi la crede come te perché è a favore e da chi non la crede come te perché è contrario quindi doppio delle visualizzazioni in ogni caso e quindi niente a quel punto Matteo Salvini era ministro dell'interno quindi in teoria il garante per eccellenza della scurezza dei propri cittadini pensa a te e niente Sheetstorm alla quintupla non farò la ganza peggio della prima sì molto peggio molto peggio mi sono anche cagata in mano devo ammettere che io non sapevo cioè nel senso se vado a cercare sì ma quando è successo mi ricordo che io sapevo della seconda non della prima la prima cioè la seconda mi ricordo che è stata proprio grossa e la seconda la condivisa al Guardian a me quando io ho visto il The Guardian con la mia foto e ho detto che cazzo è successo perché stiamo scherzando ma la foto di una ragazza cioè col viso viso scoperto quando dicono messa alla gogna cioè raga ma veramente messa alla gogna non ci rendiamo conto come diceva prima c'è altri esempi però davvero noi non possiamo renderci conto può essere stato difficile affrontare allora cioè sicuramente nel bene è successa una persona più o meno con una vita stabile ho fatto anni e anni di terapia nella mia vita quindi più o meno regolata con attorno delle persone che mi vogliono molto bene quindi ok non è stato che mi sono buttata giù dalla finestra ma io pensavo se uno di questi messaggi arrivasse a una delle ragazzine a cui io faccio teatro ma questa si ammazza in zero o due perché sono cose troppo pesanti da scrivere a una persona troppo e oltretutto anche cose che fanno pagare in mano scritte magari da padri di famiglia padri di famiglia querelati sganciati soldi fasci di merda ti sei mossa ti sei mossa per via certo e stanno tornando nuove querelle dato che l'ultima lettera domani ha portato altro shitstorm però dai bisogna dire che sta avendo un declino Matteo Salvini no sì a voglia sta sgonfiando da solo sembra una falena dentro un bicchiere che continua a sbattare ma infatti adesso è proprio da prendere i poccorni e goderci ma guarda io non voglio discutere come va a finire comunque è già andato per il ridicolo io non voglio discutere delle idee politiche o dell'indirizzo politico di Salvini io mi limito semplicemente a dire che per quanto riguarda la comunicazione una strategia di comunicazione come quella di Morisi in questo caso è il personaggio principale che si occupava della comunicazione di Salvini che bomber bomberissimo ti piace Pippa? comunque sia cazzo dei limiti cioè non esiste che uno per propaganda politica abbia il diritto di cioè mettere veramente all'agogna una ragazza che stava manifestando ed era una ragazza come tantissima altro anche io sono andato in diverse varie manifestazioni per qualunque sia il motivo non importa a quale non importa se sei di destra o di sinistra ok non esiste che io ho un cartello in mano in una manifestazione e un politico pubblica la mia faccia poi poi c'è anche lì che testo ha messo? in quel particolare momento lui era il primo difensore niente niente c'era solamente la sua faccia cioè non c'era un testo c'erano quattro parole e un emoji quello tu l'hai fatto strategicamente io quello che dico cioè io penso a chi ha fatto la strategia comunicativa e ti dico quella roba là l'ha fatta apposta certo perché quello è un'alimentazione di commenti sarà poi il fatto di andare a cercare lei di rigirare le foto di continuare a fare questa e alimenta il tuo profilo che è l'unico obiettivo che hai è aumentare l'audience del tuo pubblico infatti è il motivo per cui ho deciso anche allora ho deciso di per esempio non andare mai in televisione perché non volevo fare il suo gioco ho detto vabbè ho fatto ce l'avresti alimentato certo che hanno chiamato anche in televisione sì allora le ieni mi hanno stalkerata che io a un certo punto ho dovuto proprio dire loro non mi piace il vostro programma mollatemi ma hanno scritto anche amici chiedendo il mio numero cioè sì ma tante trasmissioni alla fine è solo una media chiara dai io direi che è arrivato il momento di chiudere io ti faccio una domanda chiedendo scusami karma esiste? io anche io volevo chiudere un po' così volevo chiudere con un saluto a Morisi se ti va tutto tuo vai una bella ripresa primo piano fai un saluto a Morisi e ci andiamo caro Luca spero che se tu hai effettivamente problemi di tossicodipendenza ti prendo tutto il tempo e ti circondi delle persone per cui stare meglio curarti e risolverli questo indiscorso per il resto tesoro il karma esiste a Morisi Sì!